E dopo il bel compleanno, festeggiato ad Arcore in pompa magna, con tanto di invitati, torta e prima candelina, per Dudu, il barboncino più invidiato ed ammirato da tutti, in questo momento, arriva anche un altro splendido regalo, il viaggio in aereo insieme a mamma Francesca e papà Silvio. Un'emozione grande per il piccolo batuffolo dagli occhioni neri, che esprimono gioia e grande divertimento. A quel cane manca solo la parola, se no sarebbe un meraviglioso bimbo, parola di Silvio. E dunque, Dudu è sempre più amato ed apprezzato dai suoi genitori, che hanno voluto regalargli anche questa ulteriore fantastica avventura. Finalmente un po' d'arrosto, era ora. Doso? Pierugo!